E durante le festività aumentano le richieste di aiuto a telefono amico. Ogni giorno in media sono una ventina le telefonate al servizio in Alto Adige. Per il 2017 Telefono Amico Bolzano ha in progetto diverse iniziative. Sergio Mucci. Oltre al tradizionale servizio d'ascolto Telefono Amico ha programmato per il 2017 una serie di conferenze pubbliche su diversi temi come ansia, depressione e suicidio. È in svolgimento inoltre il corso di aggiornamento per nuovi volontari che entreranno in servizio a fine gennaio. Da diversi anni Telefono Amico ha avviato anche un progetto con gli studenti delle prime classi del liceo classico di Bolzano e da quest'anno verranno coinvolti anche i genitori. Questa richiesta tra l'altro è nata dagli studenti. Ci hanno fatto notare che durante una di queste mattinate che svolgevamo al liceo classico ci hanno dimostrato l'interesse verso questo tipo di approccio, di ascolto attivo. E hanno detto come sarebbe bello se i nostri genitori ci potessero accogliere ed ascoltare in questo modo. In Alto Adige il telefono Amico è raggiungibile chiamando il numero 800 85 10 97. Il numero è attivo tutti i giorni dell'anno dalle 15 alle 24. Il servizio è raggiungibile anche via internet con chiamata gratuita VoIP da PC e smartphone.